Cresce l'affluenza di pubblico al Motor Show 2007 e noi non ci diamo per vinti e continuiamo a girare per gli stand. Oggi siamo all'Alfa Romeo e tra poco vi faremo vedere la 147 Ducati Corses. Vi ricordo ancora che tutte le nostre foto, i post e i video potete vederli su motorshow.blogosfera.it. Quindi buona visione e buona partecipazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.